Abbiamo affrontato i temi essenzialmente della sicurezza di questo territorio, abbiamo visto quali sono le criticità, ci sono delle criticità di carattere strutturale, da un punto di vista delle strutture che presiedono la sicurezza, mentre le forze di polizia, chiamiamole statuali, hanno gli organici pieni, perché questa è una rappresentazione sempre un po' non realistica della situazione, polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale, siamo nell'ordine del 99% sono appena organi. Il vero grosso problema di questa città da un punto di vista degli apparati di sicurezza è la polizia municipale, di questo il sindaco, stiamo parlando di un disorganico di oltre 200%, il sindaco ne è perfettamente a conoscenza, ovviamente la responsabilità non è del sindaco che in questo momento però tempo reale ha la responsabilità, evidentemente raccoglie il frutto di cose che non sono andate bene nel passato e questo è un tema. Sulla razionalizzazione delle forze di polizia comunque ho chiesto, come sto chiedendo a tutte le realtà e a tutte le amministrazioni, ovviamente Civitavecchia è la mia prima uscita pubblica da quando il 3 di aprile mi sono insediato, di rivedere i piani di controllo del territorio e quindi a breve mi aspetto che anche questa realtà lo faccia. Da un punto di vista del tema dell'immigrazione ho riaffermato al sindaco che per noi la questione della De Carolis è quella della realizzazione delle infrastrutture già finanziate, il finanziamento c'è già, sono oltre 5 milioni di euro, i lavori sono stati affidati al provveditorato alle opere pubbliche e contiamo nel giro di poche settimane di iniziare il tutto. Quindi al di là dei lavori che dovranno essere effettuati possiamo confermare l'arrivo dei migranti a Civitavecchia? Sicuramente, sicuramente. Il tema è farli arrivare nella condizione più decorosa possibile, quindi evitare tendopoli, cose di questo genere, ma quello che andremo a fare è perché a Civitavecchia arriveranno i migranti, ma perché questo credo che sia un impegno di tutto il territorio nazionale. Possiamo però ridimensionare il numero che era stato detto all'inizio di 1.500, anche 2.000 persone? Noi stiamo parlando di un'opera la cui realizzazione ha un obiettivo massimo di 300 posti.